Sì, perché mi rivedo quando sto lavorando e mi rompo i coglioni e mi vede i video di nano. Nanna, sei contenta? Sì, sono troppo bravi questi due camera. Sì, vale a destra di troppo bene. Eh, a forza. Ma Franco, lui ha iniziato due mesi e mezzo, io ho un mese e mezzo. Eh, lei ha due mesi e mezzo e già la portavo senza... Eh, sì, no, ma ti deve fare da subito, perché uno poi mi arriva e dice il mio cane è tipo, c'è un anno ma c'è un sacco di problemi. Eh, lì ora gli ha fatto dei comandi e tutto, no, niente. Eh, allora... No, ma poi specialmente io abito vicino a Piazza Polonia, da quelle parti. Lì, dai malutti nel palazzo. Ci sono certi che non hanno mai socializzato, che stanno solo ad un salio. Sì, no, è che lì, ma quando non socializzano poi... Diventa un casino, cioè... Non sono la mia, quasi tutti, sono state tedesche, ma sono aggressivistiche, cioè, devo stare sempre a tanti agli angoli. a mezzo. Sì, no, non sono giacrassi, ma sono giacrassi. Non sono giacrassi, ma sono giacrassi. Non è giacrassi. Non è giacrassi. Sì, non è giacrassi. Sì, che ti piace questo spizzetto? È velo questo spizzetto, è velo! Ce lo portiamo a casa, spizz? Così mamma e papà ci ammazza. Con tritiani, due pappagalli... Si, una coppia di pappagalli, sai? Si, una coppia di parrucchetti, di parrucchetti piccoli. Pjamagadamplaaaa Pimmm Ora che c'è non lasciò no straccio, guardami. Oddio, papà, perché mano dietro un cazzo? Ora ho paura, oddio io, io non posso ne faccia, papà. Oddio, papà, vai vedi che sei coraggiosa. Vai, dici a me, no no. Vai da che parlo? Sto bene cuti, guardo da lontano ma non toccavo. Aspetta, se è bello, sei, a lei piace troppo giocare con le foglie e le ramo dei suoi. Dove sta? Ho perso il legnetto. Ma ho perso il legnetto. Che cane feroce. Oddio, feroceissimo. Ma quanto sei carino, vedi? Rubba, amore mio, bello. Dai, 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 dai. Uiiiiii. Dov'è? Non lo trovo? Eccolo, eccolo, ci sto vicino, lo sento? No, Sarola, sta un po' vicino, ma non lo trovo. Aspetta, aspetta. Ok, forse ci sono. Aspetta, no. Vabbè, facciamo finta che c'è questo, dai. Pabllo, Pabllo. Vieni. Pabllo, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, lasciamo. Vieni, vieni, è troppo coraggiosa. Hai visto? Ho fatto coraggio. Pabllo. Vieni, Achille. Chico, chico. Abbruscate. Paola, come se non è vieni. Gli diamo. Pabllo? TSCICO, chico, andiamo, di qua. andiamo, Nanna. Andiamo di qua, dai. coronai, vediamo con lunghe il patlaccio. e non richiamo, lei pensa che c'è pericolo? Dov'è Pablo, vado a vedere Pablo Oddio, non mi toccare Ciao, sei tu È coraggioso Ora faccio allontanare un po' Sì, bravo, 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 bravo Bra, bravo Bra vissa